Sì raga, siamo Eli e Duffy! Oggi faremo un nuovo video che si chiama Quanto ci conosciamo? Consiste nel farci delle domande e che risponderà sbagliato se beccherà una bella spruzzata in faccia Iniziamo! Allora, chi è il mio attore preferito? Ehm... È tanto famoso, è famosissimo Sì, sì, dai, è famoso Cristiano De Silva No, no FAMOSO Era Leonardo Di Caprio Molto figo da giovani ma Molto bello anche io Vabbè, preparati È bellissimo Ok, invece Il mio? Il tuo Bella domanda È famoso molto Ok, ma è italiano? Sì Massimo Boddi Sono un genio Allora, vai Il mio pupazzo preferito? Beh, Munchino, no? C'è, ovvio Munchino forever E invece il mio? Sempre Munchino Sì, infatti Amiamo Munchino, lo loviamo tanto Allora, invece Il mio sport preferito? Non lo so, eh, però Fattino Fattino L'ho fatto anche Mi capelli Dai, ci valla Allora, vai Il mio? Danza No Non lo so Non è un... C'è, neanche mi piace Però E qual era? La palla a volo Ah, fa il lavoro Senti Vedi, cosa si prova? Vabbè, intanto io sono stata spruzzata una volta E tu e due Ah Vai, inizio sono punteggi Ok, va bene No, non le stiamo in diretta La preferita? La tua? Sì Florida Di Florida Ma che ne so Io sono andata proprio così E qual era? Londra No Due a due Oh, mi è entrata l'acqua negli occhi Possiamo resistere Allora, invece La mia? Florida No E che ne so? Miami Perché ne so? La mia arma Ma perché ti spruzzo nei capelli? No, anche in faccia Tranquillo Eh, vabbè Allora mi rompo più qua Allora Il mio gusto di pizza preferito Dai, Daphne è facile Posso dirle due? Sì Se si azzecchi, sì Cioè Non che dico che ne hai due Però Sì, sì, sì Va bene Se si azzecchi va bene Margherita? No Sì, vabbè Dai Quella si è sempre per tutti E poi Una mista Patate E? Salsiccia No Giusto Sì Vabbè Dai Una spruzzata piccolina Piano colpi Sì Ti prendono Quando ti puntano Quest'arma crudele In faccia Ti prendono i colpi così Invece Il tuo gusto Di preferito Di pizza Mi sto imbrogliando Quella Salsiccia E la margherita No? Bene Qual era? Taciaccino Per la salziccia Mi sto lavando Portatevi il bagno in schiuma Allora Iphone O Samsung Quale preferisco? Samsung No Iphone Volevo un Iphone Però non me l'hanno comprato Perché io sono abituata al Samsung Però non ce ne frega niente Ovviamente E' un fatto logico E' un fatto logico Il mio invece? Il tuo Il Samsung Marca di vestiti preferita? Posso dire i due? Alcott No Tall Whale Vabbè ma un'altra Tall Whale Però quell'altra non lo so Vabbè E qual'era? Quell'altro? Non ne ho mai Non ne ho mai Ah quindi era solo Tall Whale Vabbè Vabbè no Ok me la dà per buona Perché sono buona Ok grande dà E poi la mia? Tall Whale? Sì Ce ne ho anche un'altra? Alcott Sì Allora vediamo La mia stagione preferita E' solo una E' estate Beh Beh certo Ovviamente Io ne ho due Te lo dico E' estate E' No Non era inverno? Autunno E' perché che ci trovi di bello Nelle foglie che cadono così? La mia nascita Ah no Io sono invece nata di E' estate No? Sì Sì in estate Sono nata a giugno L'ho sentita Siamo all'ultima domanda E me la farà Duffy Ultime due mie Perché ne avevi fatte Le due insieme? Ah vabbè E' uguale Il mio colore preferito? Blu Sì Il mio? Io sono molto Sì Ti vedrai in vesti anche di blu Guardatela Invece il mio Il mie Il mie Il mie No parola I miei sono due Nero? Sì Che cosa ci dice il nero e il rosso? Ma che ne so C'è la camicia nera e rossa Io ne so Che cazzo? No comunque no Era questo colore lilla Sono dettagli E ora si dettagli Dapnina Dai te la faccio piano Dai te l'ho chiamato mezza faccia Ehm Sempre che? Gusto di gelato preferito? Sono due Che prendi quando prendi il gelato? Prendi stracciatella Cioccolato No Bene Era? Fior di latte Perché non ci ho pensato? Invece I miei gusti del gelato Caffè? Sì Non c'ho No Caffè e cappuccino Eh vabbè ma stai sveglio eh Molto sveglio Allora in questo video finisce Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su Condividete E ci rivediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.